Trend da record in trasferta da migliorare in casa dove finora il Pescara ha conquistato 4 punti in 3 gare. All'Adriatico c'è l'Andrea, fanalino del girone, appena 3 pareggi e 4 sconfitte. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, ogni partita fa storia a sé, non esattamente una banalità. Un solo indisponibile per Lacani, prima convocazione per Alessandro Crescenzi, Colombo all'imbarazzo della scelta, Boben ha recuperato ma dovrebbe partire dalla panchina. Certo invece l'impiego di Marco Delle Monache, piuttosto esplicito in tal senso il tecnico Biancazzurro. Come ogni giocatore, sedersi in panchina può tirar fuori quegli stimoli necessari che ti facciano capire che la direzione che si stava prendendo non è proprio quella ottimale, ma l'allenatore vuole qualcosa di diverso. Oggi mi sta dimostrando che ha percepito quello che gli chiedevo e quindi si gioca alle sue carte domani, possibilmente dal primo minuto perché ha dimostrato veramente di meritarsi durante la settimana questa chance. Ecco il probabile 11, Plizzari tre pali, in difesa Cancellotti, Brosco, Ingrosso e Milani. A metà campo il rientrante Giabuà, Craia preferito a Palmiero e Mora. Davanti con l'Escano e Cupone appunto Marco Delle Monache, ultima da titolare in campionato a Latina lo scorso 11 settembre. Landria deve dare ossigeno ad una classifica estremamente deficitaria e lasciarsi alle spalle una settimana a dir poco complicata. Sei gol fatti, 13 incassati, ben quattro le rimonte subite. Out per Sichini, Ercorani e il portiere Savini ne avrà almeno per un mese. Tesserato Filippo Vandelli, già lo scorso anno, alle dipendenze del club pugliese. Cudini torna alla 4-3-3, tre pali Zammarion. In difesa Fabriani, Lex Milillo, Dalmazzi e Asios Manovic. Arrigoni play, Mezzali, Candellori e Urso. In attacco Fabian Pavone, altro ex, Sipos e Bolzios. Ha un allenatore che fino all'anno scorso e negli anni precedenti ha sempre dato un'impronta notevole alla propria squadra dal punto di vista offensivo e ha valorizzato tanti giovani. Sarà una gara, come tutte, inizialmente difficili. La bravura delle grandi squadre sarà poi di farla diventare più semplice. Io mi aspetto una partita comunque complicata come tutte. Devo dire che però le qualità forse più importanti le ha davanti, come attacco profondità, come gamba. È una squadra che gioca, gioca, sa giocare. Quest'anno il mister ha cambiato modo rispetto allo scorso anno, quindi affronta le partite a viso aperto e quindi, come ho detto prima, potrebbe essere per noi una buona opportunità. Precedenti in Abruzzo, 8 vittorie del Pescara, 2 dell'Andrea, nessun pareggio. Nelle immagini Serie B, 24 ottobre 1993, i pugliesi, allenati da Tiglio Perotti, prevalgono nettamente 3-0, 40 sblocca su punizione nella ripresa, doppietta di insanguine. Ultima partita sulla panchina benchezzurra del compianto Franco Scoglio, sostituito da Giorgio Rumignani. 6 novembre 1994, successo di misura del Delfino, marcatore Pasquale Luiso, di testa su un preciso cross di Totonobile. Sempre in B, 26 maggio 1996, il Pescara di Franco Oddo, appena richiamato dopo l'esonero di Gigi Maifredi, travolge l'Andrea di Sonzogni, nelle cui fila milita Marco Giampaolo, finisce 5-1, apre Margiotta, 2-0 di Federico Giampaolo, trisse di Massimiliano Farris, attuale vice nell'Inter di Simone Inzaghi, Scarponi a corcia di testa, poker di Martino Traversa, quinta rete di Ottavio Palladini. 15 febbraio 1998, l'Andrea di Papadopolo, espugna l'Adriatico, 2-0, Viscidi esonerato al suo posto Buffoni. Nei primi 15 minuti decide questa doppietta di Gianmarco Frizza, Biancazzurro nella stagione 2003-2004, 6 gennaio 1999, il Pescara di Gigi Decagno, batte l'Andrea dell'ex Giorgio Rumignani. A centrocampo c'è anche Max Allegri, prodezza balistica di Michele Gelsi, dalla distanza fendente poderoso, che fulmina Lupatelli, pari di Daniele Russo, che vestirà la maglia del Delfino, nel 2004-2005. Nel finale, l'intuizione di Decagno, fuori Cicconi, dentro Yuri Cannars, che allo scadere, con questo grandestro al volo, regala i tre punti al Pescara. Sarà anche l'unico gol del difensore, in maglia biancazzurra. Infine, Serie C, 27 settembre 2009, contro l'Andrea Di Papagni, e del grande ex Marco Pomante, fa una fatica enorme. Il Pescara di Antonello Cucureddu, nella ripresa, decide Massimo Ganci, su calcio di rigore.